La prima seduta di settembre del Consiglio regionale si è aperta con importanti cambiamenti. Il consigliere Maurizio Sguanci è passato da Italia Viva a Forza Italia, mentre Elisa Tozzi ha abbandonato il gruppo misto per unirsi a Fratelli d'Italia. Entrambi i consiglieri regionali hanno condiviso le motivazioni del loro cambio di partito. Io credo che a fronte di fatti oggettivi di quello che è l'indirizzo per quello che riguardano le infrastrutture, per quello che riguarda la sicurezza, per quello che riguarda la gestione della città, ma anche nei macro temi a livello nazionale, per quello che riguarda il Job Act, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, per quello che riguarda la riforma della giustizia, ci sia molta meno distanza tra Italia Viva e Forza Italia che non tra Italia Viva e il Partito Democratico. Quando si viene via da un partito non c'è mai solo una ragione, le ragioni sono molteplici, non è stato facile, per me è stata una cosa anche dura. Io ho iniziato con Matteo Renzi nel 2008, è stato un percorso per certi versi straordinario, come tutti i percorsi a volte si trova la fine della strada e poi magari invece una strada che ti porta verso un altro territorio non dissimile da quello che stavi percorrendo. Alla fine è successo questo. Vorrei dire che io ho questo primato, che sono il primo nella storia del Consiglio regionale toscano, a passare la maggioranza all'opposizione. Questo dovrei dire la lunga. Io peraltro non ho ricevuto nessuna rassicurazione dal Presidente Tajani, nessuna offerta. È una responsabilità che mi sono assunto e della quale mi assumo appunto tutte le responsabilità. Ma direi che dopo aver trascorso un anno e mezzo nel gruppo misto, quindi insomma aver fatto anche un po' di valutazioni rispetto a quello che poteva essere un percorso politico anche rinnovato, pur sempre nell'ambito però del centro-destra e convintamente all'opposizione. Oggi il percorso che scelgo è quello di Fratelli d'Italia, un partito che ha dimostrato di poter essere diciamo espressione anche di un mondo che si apre verso vari aspetti, un'apertura al mondo moderato, un'apertura a quello che è il progetto conservatore in vista delle elezioni europee. Un partito che ha dimostrato di essere con la sua Presidente Giorgia Meloni un partito che può davvero diciamo aprire ad una classe dirigente nuova per il Paese. Abbiamo una Presidente del Consiglio che ha dimostrato di essere persona credibile, di essere persona preparata, che ha trovato anche un suo credito in Europa e anche a livello internazionale. Io credo che qui ci siano tutte le premesse per fare diciamo un lavoro da un punto di vista di contenuti, da un punto di vista di percorso politico che può davvero dare un qualcosa in più rispetto a quello che è diciamo la proposta che oggi abbiamo sempre visto in Toscana. Io credo che più un partito si apre, più un partito lancia il confronto, più un partito è pronto anche ad affrontare delle sfide con il supporto anche dell'attività di governo, davvero oggi schierarsi e quindi fare una scelta di campo nell'ottica di un 2025 che possa davvero portare al cambiamento del governo regionale, ecco io credo che questa sia davvero un'occasione preziosa e quindi ho ritenuto che fosse importante schierarsi e dare il proprio contributo. Il consigliere d'Italia Viva Stefano Scaramelli è stato rieletto come vicepresidente del consiglio regionale con 20 preferenze. Hanno ricevuto 4 voti la consigliera Elena Rosignoli del PD, 2 Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle, 1 Lucia De Robertis del PD, mentre 11 sono state le schede bianche. Questa rielezione è stata necessaria a causa della ridotta consistenza numerica del gruppo consigliare d'Italia Viva, dopo l'uscita dal partito di Maurizio Sguanci, rimanendo così composto da un solo consigliere. Il capogruppo del Partito Democratico, Vincenzo Ceccarelli, ha proposto la rielezione di Scaramelli con l'obiettivo di mantenere intatto lo spirito di coalizione tra il PD e Italia Viva. Sì, un'elezione non banale né scontata. Essere eletto per tre volte in tre anni, rieletto sempre vicepresidente del consiglio regionale, per me che rappresento una forza politica come Italia Viva, che in questo momento sto rappresentando da solo in Consiglio regionale della Toscana, è un motivo di soddisfazione, ovviamente di orgoglio, che consolida da una parte l'intesa di governo, Partito Democratico, Italia Viva, a sostegno del Presidente Gianni in Toscana, che dimostra il nostro collocamento nel campo del centro-sinistra in questa regione rispetto a un'azione di governo che prosegue per un impegno assunto con i cittadini che vogliamo portare avanti in maniera leale, coerente e corretta e nello stesso tempo credo ci sia anche un apprezzamento a un lavoro istituzionale che ho svolto in questi tre anni, non soltanto guidando l'Aula, lavorando con il Presidente Mazzeo, lavorando con l'Ufficio di Presidenza sempre portando istanze e proposte nuove, se penso a tutte le leggi fatte sui giovani, sulla cultura, su una serie di iniziative legislative che ho avuto modo di concretizzare. Quindi una elezione complessa che ha portato però a consolidare un'intesa politica e a riconoscere anche un lavoro svolto, delle quali onestamente ho ringraziato pubblicamente le colleghe e colleghi della maggioranza per la fiducia accordata a me. Ma io credo che questo voto rafforzi il nostro gruppo, rafforzi il nostro ruolo e confermi quanto una forza riformista come la nostra, come Italia Viva nel sostegno, nel governo della regione toscana sia fondamentale. Questa non era una votazione scontata, i colleghi avrebbero potuto scegliere anche di non votare il sottoscritto, in termini numerici c'è uno strapotere tra 22 consiglieri del PD e uno di Italia Viva, si poteva ipotizzare qualsiasi altra votazione. Nel confermare la mia Vicepresidenza, che è la massima carica apicale, che uno come me può ricoprire nel Consiglio regionale, denota questo il fatto che c'è voglia di stare con il PD e con il PD di stare con Italia Viva perché c'è un impegno preso con i cittadini. Gli impegni si mantengono, l'impegno è stato assunto nel 2020, noi lo vogliamo portare avanti, ci siamo impegnati nel sostegno del Presidente Gianni e quel sostegno lo porteremo avanti, in quelli che sono due anni che poi saranno i più impegnativi. Questo non vuol dire non essere una persona libera, non essere una persona che con la mia intelligenza, con la mia libertà, con la mia cultura politica in alcuni casi ha dissentito, in altri casi ha fatto avanzato proposte, ha fatto sempre sentire la propria voce di libertà, ma questo è il campo nel quale io mi riconosco e questo credo che sia un rafforzamento della nostra maggioranza di governo in Toscana. Approvata all'unanimità dall'Aula, una proposta di risoluzione che impegna la Giunta a garantire, nel percorso di attuazione legato alla riforma del sistema regionale dell'emergenza urgenza, la massima condivisione con le associazioni di volontariato. L'atto impegna inoltre la Giunta a dare attuazione quanto prima all'implementazione degli autoveicoli di soccorso avanzato con equip sanitari a bordo, più efficacemente in grado di replicare le competenze ospedaliere sul territorio. Il documento, a valle poi di un percorso importante partito dal Consiglio e poi articolato su una serie di audizioni, ha analizzato quello che è stato il tema del trasporto socio di chi ha difficoltà socioeconomiche sostanzialmente. Sapete che la Giunta ha fatto una disciplina di come si fa la prescrizione del trasporto sanitario che è garantito a tutti in tutte le parti della regione toscana. Ovviamente poi sono evidenziati quei casi in cui una persona ha bisogno di essere trasportata perché è una condizione economica o sociale tale da non poter recarsi direttamente da sola nei luoghi di cura. La Giunta aveva fatto già una serie di azioni a partire a dicembre dello scorso anno per venire incontro a queste persone. Noi con questo atto diciamo che vanno allargate le maglie e soprattutto poi nella fase conclusiva che vedrà i comuni attraverso le società della salute o le zone di stretto come soggetti che riorganizzeranno tutti i bisogni legati al trasporto sociale dei nostri cittadini la necessità di arrivare velocemente a quel momento con risorse nuove, aggiuntive per gli enti locali e con delle linee guida che reghino un livello di omogeneità su tutto il territorio della nostra regione. Sì sono risorse del Fondo Sociale Europeo almeno questo è venuto fuori dalle audizioni ovviamente abbiamo udito l'Anci che ha evidenziato la necessità che si enuglio precisamente queste risorse però è un lavoro in corso l'assessorato e il direttore generale hanno ben chiarito che questo aspetto e che le risorse ci sono anche il presidente in aula e quindi si tratta però di definirle e poi di far partire un lavoro omogeneo su tutti i territori della regione. A quel punto ci sarà il risultato che un cittadino che non ha un problema sanitario per il quale deve essere trasportato ma che deve recarsi in un luogo di cura e non ha la macchina perché è anziano, è una persona sola, in questi casi non si tratta di trasporto sanitario ma sociale però è un bisogno a cui dare risposta e quindi ci sarà un sistema organizzato diversamente con il coinvolgimento anche dell'associazione volontariato sfruttando in particolar modo anche il tema della coprogettazione e coprogrammazione che permetterà di articolare anche tenendo conto il servizio anche tenendo conto delle specificità del territorio, è una zona montana, è una zona dove ci sono i servizi insomma e questi sono i comuni e le zone di stretto che lo sanno bene sono in grado di organizzarlo con più rispondenza ai bisogni dei cittadini. Beh sì direi che tutto sommato possiamo ritenerci soddisfatti perché sono stati accolti dei nostri emendamenti in commissione e quindi è stato fatto un lavoro collegiale, questo lavoro è stato, hanno partecipato tutti i gruppi e quindi credo che un'animità sia la giusta conclusione. Ora vedremo, ci saranno degli step di verifica di quanto è stato fatto e detto, certo è che al di là del problema economico e quindi di andare incontro a coloro che in qualche modo hanno difficoltà economiche, il problema è gente che può avere difficoltà economiche ma soprattutto che sta male, cioè gli oncologici è ovvio che devono avere una priorità al di là di quella che è la loro situazione economica e dovrebbero essere privilegiati e comunque dovrebbero avere una via preferenziale. Noi abbiamo chiesto con una mozione ormai diversi mesi fa che la Giunta modificasse una scelta per certi versi scelerata, ovvero quella di introdurre dopo che fino a ottobre 2022 il trasporto sanitario in questa regione era sostanzialmente gratuita, invece dei criteri molto stringenti sia dal punto di vista economico che dal punto di vista procedimentale, addirittura si doveva certificare la mancanza del trasporto pubblico oppure piuttosto la mancanza di un parente che entro 50 km da casa ti potesse venire a prendere e portare a fare le chemie o la radioterapia quando si sa che queste terapie hanno naturalmente effetti molto negativi sulle persone e su persone che anche psicologicamente e fisicamente sono già approvate. Quindi abbiamo presentato questa mozione, è stata radicata in terza commissione e all'interno della terza commissione è nata una discussione fatta di audizioni e di un confronto serrato sia su questi criteri sia sulla possibilità di includere anche altri soggetti all'interno del trasporto sanitario in modo particolare anche le persone con disabilità perché nel frattempo gli uffici dopo la riforma della giunta dell'ottobre scorso avevano scritto anche all'associazione del volontariato anticipando che i nuovi criteri sarebbero stati applicati anche per le persone disabili ovvero si passava da una sostanziale gratuità per tutti a pagare praticamente tutti salvo coloro che avevano un'ISEE inferiore a 9.000 euro il che evidentemente parlava da solo. La giunta ha avvarato una sperimentazione e nei primi mesi ci ha dato ragione cioè ha dimostrato che erano pochissime le famiglie che riuscivano ad accedere al nuovo sistema e quindi c'è stato un accordo che si è trasformato in un documento unitario che oggi abbiamo votato e che rispetto a un ulteriore periodo di sperimentazione chiede di fare chiarezza non soltanto sui numeri, sulla qualità del servizio ma anche sui soldi che eventualmente le zone di stretto e le società della salute dovranno mettere in campo per far fronte al trasporto di queste persone. Approvata dall'Aula all'unanimità dal Consiglio regionale una risoluzione che chiede di rivedere, al termine del percorso di sperimentazione i criteri relativi al servizio di trasporto dedicato ai soggetti con fragilità socio-economica rivolgendo particolare attenzione a quelli affetti da patologie oncologiche. Sappiamo che c'è una delibera della giunta regionale che prevede una organizzazione omogenea su tutto il territorio regionale. Finora avevamo una situazione a macchia di leopardo con zone dove il servizio si basava essenzialmente sulla presenza di ambulanze con il medico a bordo e un'altra parte dove invece il medico non è più a bordo dell'ambulanza ma sull'auto e ci sono poi altre forme di mezzi di soccorso, l'ambulanza con l'infermiere, l'ambulanza con i volontari soccorritori e basta. Ecco, il modello è un modello che si incentra sulla presenza di automediche in tutta la regione questo è ben chiarito dalla delibera regionale dall'incontro dell'associazione volontariato è venuto fuori necessità a che vengono coinvolte in maniera più forte da tutte le aziende sanitarie e le associazioni volontariato quando sono nella fase di progettazione dell'emergenza urgenza b lo snellimento di alcuni oneri burocratici che sono stati evidenziati, tipo la richiesta di alcune note di credito di importi minimali il risorio come 50 centesimi talvolta crea un appesentimento burocratico che si può eliminare e la creazione a livello regionale in assessorato di una struttura, un dipartimento o una forma similare che possa essere il punto organizzativo che crea omogeneità su tutto il territorio regionale e infine il dato dei costi di aggiornare l'intesa dell'agosto 2022 tra l'altro in aula il Presidente ha risposto subito essendo presente chiarendo come su tutti questi punti c'è un lavoro preciso della Giunta e anche sul dato economico è in corso una trattativa con l'associazione volontariato che si chiuderà a giorni e che vedrà un rispetto di questi indirizzi che il Consiglio oggi ha dato Allora diciamo che è alla luce del volontariato questo è importante perché la sanità pubblica senza il volontariato a questo punto collasserebbe per cui credo che il volontariato ha lanciato dei gridi di allarme importanti questi gridi di allarme devono essere recepiti credo che con questa proposta di risoluzione in qualche modo qualche cosa è stato fatto tanto è vero che le audizioni eseguite in commissione hanno sentito i principali stakeholder e conseguentemente credo che siano state recepite nella proposta di risoluzione le loro richieste Allora siamo soddisfatti perché all'inizio del 2023 avevamo presentato una mozione proprio per mettere diciamo attenzione sullo stato di crisi in cui verte il settore dell'emergenza urgenza avevamo appunto chiesto questa avevamo chiesto che venissero aumentati i rimborsi per le ambulanze avevamo chiesto che venissero fatte delle opere per aumentare il numero di volontari che sono sempre di meno in queste associazioni così importanti per la nostra regione la nostra mozione è stata spostata in commissione a quel punto abbiamo chiesto di audire tutti i maggiori responsabili delle varie associazioni del terzo settore della regione toscana e a seguito di queste audizioni sono emerse delle criticità importanti e la commissione con il presidente sostegni che ringrazio ha lavorato a una proposta di risoluzione che è stata approvata sia in commissione che oggi in consiglio regionale quindi siamo soddisfatti e ci auguriamo che adesso l'assessorato competente porti a compimento quelle che sono appunto le richieste della Pris ma innanzitutto chiediamo non noi ma lo chiedono le associazioni e i loro rappresentanti che i rimborsi vengano portati dagli attuali 110.000 euro a ambulanza a 240 che ci sia un unico interlocutore nella regione toscana come avviene in altre regioni e che si stimoli appunto i giovani attraverso azioni di promozione ad avvicinarsi a questo mondo che è veramente basato sul volontariato Grazie a tutti Grazie a tutti